Bene, buonasera, sono emozionatissimo perché siete veramente un ballino di gente, una marea. Far ridere un milanese è la cosa più facile del mondo. Quando vado allo Zellig, per farvi capire come siete voi, uno di Milano si mette allo Zellig e ti guarda così. A Livorno no, ti guardano così. O fammi ridere. Allora, se io faccio ridere voi stasera, sarà una cosa miracolosa e meravigliosa. Livorno è una città a statuto speciale. Io vengo da Piazza Magenta, provincia di Livorno. È già una regione. Ci sono delle frasi. Il Livornese, perché è difficile farlo ridere? Perché fa capare per conto suo dalla mattina alla sera. Non smette mai di far capare. Ci sono delle frasi che noi non ci rendiamo conto, sono da psichiatria. Quante volte abbiamo sentito delle frasi che fino a Vicarello vogliono di qualcosa oltre c'è a destra. Esempio. Dei sei ossa. Dei sei ossa. Chi è? Chi è? No, stai buono, se no fai come quello. Quello chi? È da quando sono piccino così che il mio babbo mi porta a giocare a pallone e io sento questo cognome. Ma quanto c'è? 500 anni. E devi essere il cascino. Ma quel petto le mani in tasca per prendere super cosetta. Lo stesso discorso fra due portuali di 70 anni andati in pensione a 28. Pieni d'oro perché i Livornese... Grazie ragazzi. Grazie. Un approccio anche a Maestro Lucarelli che stiamo accompagnando. I Livornesi sono come i Maia, riga il valore. Aspa. Lo stesso discorso fra due portuali. Lui si aspira funzionanti ai vocali. Ma i sentiti i Livornesi non parlano, cantano. Fanno così. Allora? Bah. Ma che? Dei. Com'è? Dei. Tu ma? Dei. Tu ma? Era lì un minuto fa, se no si è cascata. Quando ci si picchia, in tutto il mondo ci si picchia. A Livorno noi siamo ciaccioli. Prima di venire, fateci caso, lasci fare domande. C'è anche il problema? No, 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 no